I numeri non si discutono e quelli sono spietati nel marcare le differenze tra Empoli e Bari. I toscani viaggiano a ritmo promozione e la squadra bianco-rossa, da cinque turni, sarebbe ultima in classifica, un solo punto figlio del pareggio contro il Trapani e quattro sconfitte. Differenze che il Bari vuole provare a colmare domani sera nel posticipo dell'undicesima giornata in programma, nel giorno di ogni Santi. Differenze che sono ben evidenti anche ai giocatori di Alberti, finito nel minino della critica per alcune scelte tecniche in occasione della gara contro il Trapani, pronto a sorprendere con uno schieramento più offensivo del solito in vista della trasferta in terra toscana. Una sorpresa di certo potrebbe essere rappresentata dall'utilizzo, dal primo minuto, del portoghese Joao Silva, unico attaccante di ruolo sino a questo momento entrato in gara, sempre dalla panchina. Gli allenamenti della settimana sembrano confermare questo intendimento di Alberti, anzi Joao Silva dovrebbe far parte del tridente con Galano e Fedato, arricchito da Beltrame che si muoverebbe alle loro spalle. Insomma, l'idea sarebbe quella di non vestire i panni della vittima sacrificale contro l'Empoli di Maccarone e Tavano, i top player della formazione toscana. Per fermare la coppia d'attacco empolese, servia una prestazione perfetta della difesa bucata da sei partite consecutive. La squalifica di Sabelli obbligherà all'arretramento di Defendi, mentre Cepitelli al centro dovrebbe essere in vantaggio sul Polenta per una maglia da titolare. A centrocampo, invece, potrebbe rivedersi Romizzi, mentre nell'Empoli mancherà il capitano Moro, anche se rientra Pucciarelli, che si muoverà alle spalle dei già citati Maccarone e Tavano. Le differenze tra Empoli e Bari potrebbero accentuarle proprio loro due.